Ciao ragazzi, io sono Enrico Pasquale Praticò. Abbuto molto a San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me, mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna. Ciao ragazzi, sono un carino ragazzo. Trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Praticò, il mio numero lo do a Giovanni Zacchuri e così mi trovate voi e su Facebook Enrico Pasquale Praticò con tutti. Ciao. La mia vita sono qua, io mi cattavo. Ma non si riesce a capire un cazzo. Ho il telefono Samsung Gales Grand Neo e voi che facete? Ciao. La mia vita è la mia vita è la mia vita. Grazie per la visione